Entro un mese la provincia di Imperia adotterà un protocollo digitalizzato in entrata per snellire le pratiche relative alle autorizzazioni antisismiche dei cementi armati. Lo hanno fatto sapere il presidente della provincia Domenico Abbo e il delegato consigliere Giorgio Giuffra, dopo un incontro con i presidenti degli ordini provinciali degli architetti e degli ingegneri, l'architetto Andrea Borro e l'ingegnere Riccardo Restani. L'incontro, al quale ha partecipato anche il dirigente provinciale competente, ingegner Mauro Balestra, ha avuto un esito positivo, che ha soddisfatto le parti. Abbo e Giuffra hanno evidenziato che entro un mese la procedura di presentazione delle pratiche sarà completamente digitalizzata, semplificando così il lavoro dei professionisti. Sarà anche allestito una sorta di prontuaio informatico, utile per semplificare tutta la documentazione delle pratiche. L'architetto Andrea Borro e l'ingegnere Riccardo Restani hanno giudicato la riunione promossa dalla provincia come un segnale di grande apertura e collaborazione.